Milan, Djuric, papum, papum, l'inzuccata, non faceva un gol, ne ha fatti due oggi. Lazio, al di poco, deludente, graziato da... Il sapore del gol che mi recupero in bocca. Graziato da un errore clamoroso di Donate, che dà una palla sciagurata, da un mezzo regalo di Di Gregorio sul primo gol, il Monza ha sprecato almeno 4-5 opportunità nitide, la Lazio oggi non ha praticamente proposto il gioco, anche i campi cervellotici di Tudor, di togliere Zaccagna, Monito, Pep Casale, non è che abbiano funzionato tanto, anzi la Lazio ha fatto molta fatica a esporre. Note positive per una partita che annulla definitivamente le residue speranze di poter inseguire la Champions da parte di Bianco Celeste. Il ritorno al gol dopo tre mesi di immobile, che era un caso clinico, si è giocato agli europei. Il gol di Vesino. Poi ci sono state alcune reazioni sciagurate, Luisa Alberto è ritornato a fare i suoi shop a protesta contro le sostituzioni, Zaccagni ha sbattuto la bottiglietta. Certo, quando un giocatore viene sostituito dopo mezz'ora, la reazione è più comprensibile. Però mi sarei aspettato molto di più da questa Lazio. Il Monza ha onorato il campionato, facendo una signora partita, creando tanto, contro gli uomini di Tudor che in questo periodo davano una sensazione di una certa impermeabilità difensiva. Oggi sono crollati perché due gol, 6-7 opportunità, nel complesso oggettivamente sarebbe stata una vittoria truffaldina quella di oggi allo stadium del Monzello. Però il Monza ci ha messo in impegno, ha letto la partita, ci ha creduto fino all'ultimo. L'ultima azione è semplificativa. Dani Mota, invece di mettere un cross in precario equilibrio, l'appoggia indietro a Pessina, bravissimo a leggere la situazione, con Casale molto ingenuo da farsi prendere il tempo dall'attaccante che ha sempre dato utilità, sbocco alla manovra, ma dal punto di vista realizzativo non è questo marpione dei no altri. La Lazio annulla il sogno ma oggi è stata una squadra bianco celeste che ha iniziato i primi 15-20 minuti bene e pian piano si è affevolita e ha solo subito gli attacchi altrui e non è riuscita a trovare contromisure di nessun tipo ed è giusto che il Monza non perdesse questa partita. Monza 2, Lazio 2, nel finale anche una mezza rissarella poi detto molti errori di gestione che non hanno inciso sul risultato, tanti errori da una parte da un'altra non è sembrato molto maturo nella gestione del match eppure non era questo match così carico di tensioni come potremo vedere negli ultimi 4 match.